Hai presentato il rapporto sulle energie rinnovabili 2017, che cosa emerge da questo rapporto, soprattutto nel ruolo di Enel Paura Energia? Allora, intanto è un'iniziativa, un appuntamento annuale interessante perché permette di fare il punto della situazione, il titolo è Comuni Rinnovabili, ma in realtà permette di fare il punto della situazione a livello nazionale del stato di salute delle energie rinnovabili. Quindi, quello che esce fuori è che lo stato di salute è positivo, nonostante tanta finta depressione che segue a un momento di entusiasmo passato, perché in realtà le cose poi stanno avvenendo, magari con una velocità meno roboante, però forse con maggior consapevolezza dell'impatto positivo che le rinnovabili riescono ad avere a livello comunale, a livello nazionale, a livello territoriale. Il ruolo di Enel Green Power ovviamente è un ruolo importante, noi siamo l'azienda leader mondiale, siamo un orgoglio italiano, azienda leader mondiale nelle rinnovabili, operiamo nei cinque continenti e ovviamente avendo un cuore italiano, e una testa e un cervello italiano operiamo anche in Italia. Lo facciamo in tante tecnologie, non solo nel solare e nell'eolico che sono le più importanti in termini di volumi, ma lo facciamo nella geotermia dove siamo un leader storico e lo facciamo anche nell'idroelettrico dove manuteniamo e miglioreamo ed innoviamo un parco impianti veramente importante. Lo facciamo nel rispetto del rapporto con le comunità locali che vedono in noi non una presenza ingombrante o invasiva, ma un'opportunità di crescita non solo economica, ma soprattutto sociale, di formazione, di opportunità di lavoro e di cooperazione sana con un grande gruppo industriale come quello che è l'Enel, e lo facciamo nel rispetto dell'ambiente e della presenza di lungo termine nei territori che ci ospitano. Quindi da questo punto di vista vedo un circolo virtuoso. Si può fare, si può fare di più e si può fare meglio? Sì, certamente, soprattutto utilizzando nuove tecnologie, pensiamo allo storage, alla digitalizzazione, che permetteranno di far penetrare sempre di più le rinnovabili nella matrice energetica italiana, senza doverne necessariamente pagare un costo superiore a quello di fonti tradizionali di generazione. Quindi l'ambizione è quella di diventare la soluzione energetica per un paese moderno come l'Italia.